Un saluto da Pippo Vardelli, parliamo di basket, parliamo di Assigeco Piacenza su Radio Sound e lo facciamo con il direttore sportivo Alessandro Pagani. Ciao Ale, bentornato. Ciao a tutti, è un piacere essere ritornato sulle vostre frequenze. Allora Ale, partiamo commentando quello che sta succedendo in casa Assigeco, una partenza molto complicata, abbiamo sottolineato anche nelle settimane scorse, sei partite, sei sconfitte, un avvio che vi ha portato alla scelta di esenerare con Salieri. Ti chiedo come coach Manzo, che fino a poche settimane fa era il vice di Salieri, potrà provare a cambiare la situazione? Ovviamente in questo sport siamo un po' schiavi dei risultati sportivi, saremo eternamente grati a coach Salieri per quello che ha fatto per il nostro club. Sono stati quattro anni e qualche mese vissuti molto intensamente, grandissimi risultati sportivi sono arrivati sotto la sua guida tecnica, quindi per noi ha rappresentato e rappresenterà sempre un pezzo di storia in Assigeco. Quindi un ringraziamento è sicuramente dovuto e come dico sempre ci sono rapporti sportivi ma rapporti anche personali e sicuramente con i consiglieri i rapporti di stima proseguiranno anche nonostante l'esonero. Coach Manzo avrà un compito non semplice, quindi provare sicuramente a ottenere una vittoria in questo momento per noi non positivo. Veniamo da sei sconfitte consecutive a inizio campionato, una cosa che non ce l'ha mai capitata, quindi un aspetto nuovo da tenere in considerazione anche dal punto di vista mentale e quindi sicuramente imposterà la settimana di lavoro cercando di mantenere i ragazzi nel più alto livello di attenzione possibile, consapevoli tutti quanti del momento in cui siamo e ovviamente abbiamo solo in testa un obiettivo, ovvero quello di vincere contro Udine. Una necessità, quella di cambiare, che ha avuto effetti anche sul campo, sui giocatori. Avete tesserato Gaic, un giocatore che è già stato con voi. Ti chiedo come può aiutarvi nell'immediato e poi ovviamente anche nel proseguo della stagione. Ma sai, ovviamente in questo momento di mercato ci sono pochissimi giocatori disponibili. Nemania era con noi aggregato da circa un mese, poco più, e vista anche il momento di difficoltà, non abbiamo avuto infortuni particolari, ma abbiamo pensato che un ulteriore innesto nel rostere in questo momento, come dicevo prima, anche di difficoltà dal punto di vista mentale, potesse darci una mano. Quindi Nema conosce l'ambiente, conosce la società, conosce Beto, Beto Manzo, conosce già i suoi compagni, quindi non ci sarà neanche, tra virgolette, bisogno di fare un inserimento con un nuovo giocatore. Conosce già i nostri schemi, si è già ambientato, quindi ci darà una grossa mano dal punto di vista difensivo-offensivo, ovviamente partendo con minuti ridotti e inserendosi in punta di piedi nel nostro sistema d'attacco e di difesa. Da cosa deve ripartire la Shijeko per provare a raggiungere questa prima vittoria che è troppo importante in questo momento? Udine è un avversario sicuramente di altissimo livello in questo campionato, è una squadra formata da dieci giocatori, hanno ambizioni importanti, un coach come Vertemati, che è un califo di questo campionato molto esperto, ma come ti dicevo prima, noi non dovremmo guardare l'avversario sabato, dovremmo guardare solo il nostro obiettivo, ovvero l'obiettivo è quello di vincere davanti ai nostri tifosi del Palabanca di Piacenza sabato alle 18, perciò il focus già da martedì è stato impostato su quello, io l'ho visto Partizan-Bologna, ci potrebbe essere anche il Partizan al Palabanca sabato, però il nostro obiettivo veramente deve essere quello di cercare di guardare oltre il nostro avversario, concentrarci su di noi, chiuderci in palestra a lavorare e poi dopo la palla 2 vedremo chi sarà stato più bravo, però ecco, come ti dicevo prima, dobbiamo guardare noi stessi, guardarci negli occhi e capire veramente se abbiamo ancora qualcosa da dare, io sono convinto al 100% che questa squadra ha ancora molto da dare in questo campionato. Una partita che si giocherà sabato alle 18, Assigeco contro Udine, valida per la settima giornata del campionato di Serie 2. Nell'attesa di raccontarvela, grazie a Dalle Pagani per essere stato con noi e in bocca al lupo. Crepi e ci sentiamo presto, ciao a tutti.